Nei rifugi montani chi apre serra è una vera e propria regola di civiltà. Significa lasciare il luogo nelle stesse condizioni in cui lo si è trovato. La frase è diventata anche il titolo di un documentario firmato da Andrea Frenguelli e che è stato proiettato nella sede aquilana del Club Alpino Italiano. La pellicola di Frenguelli racconta l'amore per la montagna di Luca Mazzoleni. Mazzoleni, ospite del Cai dell'Aquila, ormai da quattro decenni lavora come rifugista sul Gran Sasso. Attualmente gestisce il rifugio Franchetti, una struttura a 2433 metri sul livello del mare e sulla cui porta d'ingresso campeggia un cartello in legno con su scritto proprio chi apre serra. Domanda d'obbligo, si aspettava di diventare il soggetto di un film documentario? No, assolutamente no, assolutamente no. Anche perché poi faccio un lavoro strano ma assolutamente normale, particolare, ma non sono un eroe di nessun genere. È il cumulo degli anni che porta ad ottenere qualche risultato. Che vita è quella del rifugista, del rifugista sul Gran Sasso in particolare? È una vita bella, impegnativa, ma è bella. È l'unica che io abbia mai fatto, quindi non saprei neanche fare troppi paragoni. Da quando ho 18 anni che lavoravo proprio qua, al Duca degli Abruzzi, sopra Campo Imperatore, ho fatto sempre questo. È un bellissimo lavoro, faticoso, ogni tanto stressante, però sicuramente non mi posso lamentare. Da questi 30-32 minuti, da quello che ho visto la durata del documentario Andrea Frenguelli, cosa viene fuori? Beh, abbiamo cercato di comunicare quella che è la vita di una persona che lavora in rifugio e che vive la montagna da un'ottica diversa. L'obiettivo era quello, far capire che il rifugio non è solo agosto, non è solo fare le polente, non è solo un'attività commerciale, ma è molto di più, qualcosa di molto diverso. La proiezione del documentario Chiapreserra, cui poi ha fatto seguito la conferenza Vita da Rifugista, sempre con protagonista Luca Mazzoleni, fa parte del calendario di eventi pensato e concretizzato dal CAI dell'Aquila per celebrare i suoi 150 anni di attività. L'incontro con Luca Mazzoleni è un incontro importante perché sarà l'occasione per approfondire un po' quello che è l'idea del rifugio di montagna. In un periodo in cui ci sono rifugi che offrono champagne e ostriche raggiungibili in macchina, la scelta di un rifugio davvero alpino è importante, è importante sia come presidio nella montagna, ma soprattutto è importante per i riflessi che ha la scelta di vita di un rifugista che obiettivamente ha compiuto una scelta severa, cioè la gestione di un rifugio in alta quota richiede sacrificio, impegno e anche una dedizione, una motivazione fuori dal comune.